Sì esatto ragazzi, come avete capito da titolo e miniatura, vi porto con me in vacanza. Dato che il traguardo di un milione di iscritti è vicinissimo, ho pensato a come festeggiarlo al meglio. E come se non a Dubai insieme a voi. E sì, voglio portare ben 5 di voi con me. E siccome l'invito ve lo faccio io, pagherò tutto io. Volo di andata e ritorno, alloggio e le restanti attività. Voi non dovete far altro che avere fortuna ed essere estratti. Fossi multi mega miliardario avrei già riempito 100 aerei per Dubai con tutti voi. Però diciamo che per ora fa così, ma direi che 5 già non è proprio un brutto numero, che dite? Vi anticipo che tra i requisiti per partecipare c'è quello di commentare qua sotto al video. Qualunque cosa voi vogliate, quindi scrivete anche puzza, non mi interessa. Cioè, qualunque cosa, una cosa qualunque. Non dovete sforzarvi tanto, ecco eh sì. Cosa state facendo? Perché non state scrivendo? Dicevamo, la mia intenzione è quella di portarvi a Dubai per una settimana intera, nei luoghi più iconici di tutta la città. E anche dei miei video, quindi ad esempio nel deposito di auto abbandonate, o nel concessionario mensoli, eccetera eccetera. Dubai è piena di cose da fare, quindi sì, insomma, abbiamo un bel po' di cose che possiamo scegliere insieme. Quindi quando si parte? Beh, questo è da decidere. L'intenzione è verso il fine novembre, inizi dicembre, ma devo ancora guardare i prezzi, e quindi non c'è una data precisa. Ci metteremo d'accordo una volta che saranno stati estratti i vincitori. Adesso vi spiego i requisiti per poter partecipare ed essere estratti. 1. Essere maggiorenni. 2. Avere un passaporto in corso di validità per almeno altri otto mesi dalla partenza. 3. Avere un budget di emergenza minimo di 300 euro. 4. Avere la possibilità di raggiungere l'aeroporto di Fiumicino. Anche la mattina presto. Potrebbe variare, ma anche la mattina presto. 5. Essere iscritti e fan del canale! Infine, dovete essere disponibili per i sette giorni del viaggio. È importante essere in possesso di tutti i requisiti. Per esempio, se non siete maggiorenni o non avete il passaporto, non potete partire. Ovviamente il passaporto potete farlo anche una volta che siete stati estratti, però dovete considerare 30 anche giorni, anche di più, per poterlo ricevere. Quindi tenetelo a mente, ma lo vedremo dopo. Cosa dovete fare per essere estratti? È molto molto semplice. Dovete lasciare un commento qua sotto, qualunque sia, anche una parola sola. E dovete entrare nel link nella community Whatsapp. Piccolo appunto. A quanto pare non si può fare su Whatsapp perché non mi hanno ancora abilitato la creazione dei canali. Ed è per questo che lo faremo invece su Instagram. Quindi troverete il link qua sotto in descrizione, dove ci terremo aggiornati. E infine, dovete partecipare al quiz, sarà molto semplice. E niente, vedremo se avrete fortuna e sarete selezionati. Quindi l'estrazione come funzionerà? Estrarò 5 persone randomicamente tra quelli che avranno passato il quiz. E lo farò in live su Instagram. Per sapere le date della live, allora ve lo comunicherò sulla community Whatsapp, che utilizzeremo d'ora in poi per tenerci in contatto. Ricapitolando, trovate tutte le informazioni qua sotto nella descrizione. E nulla, non mi resta che augurarvi una buona fortuna con l'estrazione. Ci vediamo nella community di Whatsapp. E con alcuni di voi ci vediamo in aeroporto. Detto ciò ragazzi, grazie mille. Arrivederci. Grazie mille.